Della cronaca in primo piano, beni per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dalla sezione di agrigento della direzione investigativa antimafia ai familiari di Vincenzo di Piazza, 73 anni. L'uomo attualmente è detenuto con una condanna a 18 anni di reclusione per mafia e ritenuto infatti il capo della famiglia mafiosa di Casteltermini. Il sequestro riguarda beni intestati ai figli, si tratta di 26 fabbricati compresi quelli rurali, 335 appezzamenti di terreno, un'azienda per l'allevamento di bovini e caprini, ancora una ditta per la coltivazione di cereali e poi 5 conti correnti bancari. Rissa in tribunale ieri a Palermo per la sentenza del processo contro i presunti estortori dello chef Natale Giunta Giovanni Rao e Maurizio Ducchese sono stati condannati rispettivamente a 7 anni e 8 mesi, a 6 anni e 8 mesi erano accusati di estorsione, minacce e danneggiamenti. Una volta ascoltata la lettura del dispositivo però i parenti dei due condannati hanno cominciato a imbeire contro il tribunale e contro la sentenza che ritengono ingiusta. I familiari dei due hanno diverto le strutture che reggono le bandiere dell'Italia e dell'Unione Europea al secondo piano del tribunale spostando anche panchine ebbe anche che la figlia di Rao ha accusato un malore. Alcuni dei familiari hanno dato un'iscandescenza e uno di loro è stato fermato e condotto via dalle forze dell'ordine. Veniamo alla politica regionale. Lars ha approvato l'articolo 5 della riforma delle province, quello che disciplina l'elezione dei presidenti dei liberi consorsi che verranno eletti in base a questo articolo da consiglieri comunali e dai sindaci delle amministrazioni che vi aderiscono. In questo modo cade definitivamente l'ipotesi della elezione diretta, un'ipotesi che il nuovo centrodestra aveva insistito fino a ieri per introdurre. È stata approvata anche la norma che prevede la composizione delle giunte che insieme al presidente guideranno i liberi consorsi, ne faranno parte oltre al presidente circa otto assessori numero massimo nominati dal presidente tra i componenti dell'Assemblea. Restano da approvare gli altri articoli, tra cui quello contestatissimo sulle città metropolitane. Se ne discuterà da martedì prossimo. Ancora sbarchi e ancora soccorsi in mare. Il pattugliatore Foscari della Marina Militare questa notte ha soccorso un gommone a sud di Lampedusa. A bordo c'erano circa 100 migranti, tra loro 23 donne, 46 minori ed un neonato. Complicate le operazioni di soccorso, non solo a causa della precarietà del gommone e per la mancanza di salvagenti, ma anche per le cattive condizioni del mare. I migranti sono stati trasferiti a bordo del pattugliatore che si sta dirigendo verso il porto di Augusta. Disaggi per la pioggia caduta abbondantemente ieri pomeriggio a Palermo. Intilte la circolazione lungo la circonvalazione palermitana, ma anche in molte altre zone. La Polizia Municipale ha chiuso al transito metà della carreggiata di via Cappuccini all'altezza di via Pindemonte perché proprio a causa della pioggia ha ceduto il manto stradale. Il sistema fognario non ha retto al carico d'acqua e decine di tombini sono stati scoperchiati dalla pressione. Sul posto sono intervenuti i vici. E' morto l'ex prefetto di Trapani, Fulvio Sodano. Si è spento ieri pomeriggio nella sua abitazione di Palermo. Sodano era da anni gravemente malato. Sono tante le reazioni, tra queste anche quella del sindaco di Palermo che dice che con lui scompare un grande prefetto, un uomo che ha saputo coniugare alta professionalità rispetto della legalità e amore per Palermo e per la Sicilia. Ricorda l'impegno antimafia di Sodano, anche l'associazione libera che dice a lui sono legate alcune delle più importanti battaglie per l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Noi ci fermiamo qui, l'informazione però torna come sempre più tardi. Grazie per averci seguito. Buona giornata.